bastano tutti questo è un naso che non lo vede nero 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 ecco così eccoci 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 se mi è macchia tutto basta non c'è più spazio aspetta non c'è più adesso usciamo dai dai facciamoci un selfie guardami guarda guarda ecco aspetta ok guardiamo ecco 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 ok ecco 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 Vabbè, sono bello così, bello? Posso trovare una ragazza? Credi che si esco così trovo qualche ragazza? Guardati allo specchietto. Guarda lo specchio. Ma questo è un pezzo culo. E quindi? Adesso? L'ho fatto tutto lui, eh? Solo che vi ho detto che qua sotto no? No, io no. Già pensavo per trovare pure qua sotto. Perché se non faccio così mi macchio tutto e mi sono portato solo una felpa. E ancora mi mancano due giorni. E il martedì ce ne abbiamo. Ok. La prossima volta ce l'ho a casa. Dei trucchetti di Halloween. Però che non li abbiamo usati. Perciò li porto a lui. Sai come ci divertiamo? La prossima veniamo con Marco, sai? In aprile. Ecco. Alla fine di aprile. Guardi a Marco. Veniamo con Marco. Che mi stai odiando? Che mi stai odiando? Oli sempre le andiamo con le calve. Non ci sono. Che mi stai odiando. Che mi state! Che mi stai odiando. Che si è l'intensibile. È l'intensibile. È l'intensibile. È l'intensibile. Che ti resti? i capelli alzati i peli no però tanto sopra no hai distrutto tutto questo ecco così con i pennellini è più facile facciamo con i pennellini e con le manine i pennellini e le manine possiamo usare pure manine devo dare una boccia manine e pennella guardati allo specchio questo specchio è fatto per guardare non vale tutti i trucchi stanno proprio finendo che c'è già finito vediamo papà 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 di colori di colori le ciglia le ciglia le facciamo di colori mamma mia è meglio posare tutto perché se no finiscono tutti i trucchi abbiamo finito allora ci facciamo un selfie ecco però io mi sono già truccato e mi sono lavato la faccia e tu no io rimango così fino alla sera ti fai vedere da lisa da Roma ti fai vedere da lisa a da ma ti fai vedere da lisa a Roma dopo le mandiamo un video e dopo ti dà un compleanno di biglietto e dici che Daniele te l'ha fatto bene bene perché uno scherzo di carnevale uno scherzo di carnevale ok sai raccontare una barceletta una barceletta non sai raccontare ok saluta ciao di ciao ciao